Non dire niente, già ho capito, vuoi farci l'intervista? No. Stai con il microfono, la telecamera? Benvenuti a Cristian Di Siga, Massimo Boldi, Cristian Di Siga e Cassa Purubiaggio. No, insomma, siamo molto contenti di essere qui all'hotel Vesuvio, non è discriminazione territoriale. No, infatti siamo veramente entusiasti di questa esperienza che siamo trovati appunto a vivere, siamo in questo cast, il presidente ci ha scelto, ci ha selezionato dopo un'esame accurato. 5.000 candidati. 5.000 candidati. Sono affascinato da questa telecamera. Sì, è una telecamera particolare. Sì, particolarissima, c'è quel flash, quel faro sembra un faro di uno stadio in miniatura. Voi non lo vedete, ma il tipo dietro pure è simbatico. Molto simbatico. È simbatico, è simbatico. Sì, sì. C'è un anello non indifferente. E lui, prima di fare questo lavoro, noi facciamo un altro lavoro, non so se si è capito, insomma. Sì, abbiamo notato un anello, la telecamera. Ah, ok. Si fa pensare, capito? Dopo un colpi di fortuna. Abbiamo fatto, si fa la fame, sai, quindi, insomma, cerchiamo di arrabbattare in qualche modo. Poi siamo riusciti, per fortuna, insomma, con Made in Sud, con tante bellissime cose, a fare questo lavoro. E finalmente siamo approdati al cinema con questo film fantastico, colpi di fortuna. Colpi di fortuna, sì. Io e Cristiano interpretiamo due tifosi molto morigerati, molto pacifici, che hanno questo confronto molto sereno con Luca e Paolo, che sono notoriamente tifosi genuani, e hanno l'incoscienza di gettare a terra con lo sprezzo la maglia di un calciatore del Napoli, che non vi diciamo a quello che vedrete dal cinema. Invece, Mariano, tutti in te. Io sono un umile tassista, quando lo dirò in diretta. Sono un umile tassista, abbiamo girato questa scena a Napoli, nella nostra città. Diciamo ancora una volta che in questo ultimo episodio, perché il film è diviso in tre episodi, noi siamo nell'ultimo episodio con altri colleghi di Made in Sud, ci auspichiamo che questo sia un inizio con il nostro caro Presidente. Ho visto che vi siete allenati per l'intervista e soprattutto per la canzone di Natale, quindi adesso... Noi facciamo questa canzone, la facciamo spesso, ultimamente ci chiamano solo per questa cosa. Quindi piano barra, quindi piano barra. Il nostro cachet è altissimo, comunque vabbè, facciamo un piccolo omaggio per i spettatori di Spazio Napoli. Sì. Ok? Pronti? Un, due, vai! Ti auguri a tutti voi, auguri di buon Natale, venite al cinema con Ivene Cristiano e Mariano Bruno. Aguri. Ci vediamo il 19 dicembre con Colpi di Fortuna in tutti i cinema. Anche il 20 sulle Bancareno. Grazie. E' la sua, la mia via Rù. Grazie.